che ha avuto il piacere di portare, di consegnare da Roma dove lui lavora, anche se non è italiano, non è di Roma, ma ormai è diventato parte della nostra nazione. Da dove vieni? All'Albania. Sono 26 anni che lavoro sempre tutti i vostri. A occhio e croce hai passato più dalle metà del tuo tempo qua. Alla metà del mio tempo, sì. Ok, bene. Cosa ci hai portato? Ho fatto con i vostri prodotti un materico. Tutto questo l'ha fatto con una lavorazione a spatola. Dove è andato il nostro amico Giancarlo? Ve lo trovate, perché la spatola Giancarlo la usa tutti i giorni. Vi facciamo vedere un utilizzo con la spatola piccolina, perché la sua spatola grande è un po' difficile fare. Ma c'è un altro dettaglio. Dove è questa vista? Questo a Roma, a lungo Tevere, mentre lavoravo per lo studio di Go, mi ha colpito questo paesaggio e ho fatto un schizzo e l'ho realizzato a casa. I vostri prodotti. Allora, l'ultimo lavoro che sta facendo, che è a Roma, è una galleria d'arte. A giorni verrà inaugurata. Avremo poi il piacere di vederla sui social e tutto, però a giorni verrà inaugurata. Questa galleria d'arte ci sta lavorando. Io ho avuto il piacere di vederla mentre era lì che lavorava. Sta facendo delle cose incredibili. Un soffitto che è irrealizzabile, se non da parte di una mano maestra e di un artista. E io ho visto questo scorcio. Dove ha preso un'idea e l'ho visto perché mi sono trovato lì. E devo dire che è veramente l'espressione di quella parte di Roma, di quello scorcio che si vede a Roma. Una cosa bella, simpatica, molto carina. Grazie per averci. Ma per i vostri prodotti, Presidente, si può fare di tutto. Bene. Ti puoi divertire, diciamo. Per caso, Astrid, glielo spieghi, glielo traduci, gli fai una domanda. Questo è fatto a spatola. È tutto fatto con la trowel. No, no, no. No, no. No, no. Wow. Però... Next one. Next one. I want you to do the next one. We're one of these bad boys. I don't know how you do it. Do something. And film. Sì, va bene. Sì, va bene. Va bene. L'importante è avere qualcosa in mano, si può fare di tutto. Ma pure con le dita, non solo con le brazze. È vero. È vero. È vero. Bene. Grazie, Astrid. È un piacere. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Permettimi perché anch'io sono un po' social. E allora ci facciamo un bel selfie. Insieme. Vieni. Ok. Perfetto. Tutti insieme. Grazie. Così che vediamo il quadro completo. Grazie. 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 Grazie.